Eeeh Neanche cazzo qua dietro Oh, non è bene La scuola non funziona Cazzo 42 Ok, questo deve avere il tuo nome Non ghiaccia Va, vediamo Non funzionerà mai ma ci proviamo Ostia Figura te No No Forse Ci ho fatto caso è Notizia coperta di pettini Ok, ci sarà qualche doppio senso in questo pettinare Ok Ok Ok, critico Ok Quindi niente fuoco Quelli fuoco a tono o aria Fuoco a tono o aria Fuoco a tono o aria Nessuno di questi tre Eh Però Posso almeno fare così Fuoco 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 non fa un cazzo Ottimo Ottimo No, scusa Qua Eeeh No 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 Questo è il vento No, questo è sempre il ghiaccio Fuoco Abbiamo detto che non gli fa un cazzo Non male Non male Questo è pericoloso Un critico no, eh Un'altra Un'altra Oh, ottimo Ok Un'altra combo Minchia 43 Tutta sta schiuma Per fare 43 Vabbè Va bene Eh, counter strike Ok Allora, che cazzo c'è Ghiaccio a tutti Ghiaccio a tutti Fisico a tutti Questa non mi ricorda che cazzo fa Incredibile Questa che costa Un casino usarla Un'altra 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 Va bene Eh Che palle Vabbè Questa è l'evoluzione di questa 45 Ma va al 52 per imparare qualcosa Ok E mo? Ok Ci sarà Ci sarà qualcuno qua dentro No Orb of Darkness Ok Vabbè quindi di qua ho pulito tutto Rotta in orange Va bene Non si può fare un cazzo Si Però adesso andiamo a salvare Perché prima sono morto come un cretino Ci vediamo tra un po' Ciao